Il decreto della Regione Campania che autorizza la costruzione del metanodotto Policastro Montesano sulla Marcellana contiene una serie di incongruenze ed elementi per poterlo dichiarare illegittimo. Di questo sono convinti i sindaci del Golfo di Policastro che si preparano ad avviare una serie di azioni giudiziarie contro il parere favorevole espresso dalla Commissione Via il 30 ottobre scorso. Un parere provvisorio che potrebbe diventare definitivo nella conferenza dei servizi che dovrà essere convocata al termine del procedimento in corso in Regione per il via libera al cantiere della SNAM. La notizia del primo parere favorevole della Commissione Via ha messo di nuovo in allerta anche il comitato cittadino Costa costituitosi un anno fa proprio per contrastare il metanodotto. Il suo presidente Rolf Müller sta lavorando per l'organizzazione di un incontro al Ministero e se non sarà possibile per una manifestazione di protesta da tenersi a Roma sotto il palazzo del governo. Mentre politici, amministratori e cittadini cercano di difendere il territorio dal progetto della SNAM ritenendolo altamente impattante la multinazionale ha dato inizio ai lavori a Milazzo. Il progetto prevede che un metanodotto proveniente dalla Libia attraverso la Sicilia si immetta sulla terraferme in prossimità della foce del fiume Bussento sulla spiaggia di Policastro con due condotte da 80 centimetri di diametro, pressione e 215 bar fino a giungere ad una stazione di decompressione. Da Policastro dovrebbe poi ripartire una tubatura da 120 centimetri di diametro con gas metano a 90 bar di pressione che raggiungerebbe la centrale già esistente a Montesano sulla Marcellana. È stato già stimato che l'opera comporterebbe l'abbattimento di 28.600 alberi lungo 18 chilometri di aree boschive e attraverserebbe ruscelli e torrenti che alimentano il Bussento. Da Milazzo a Montesano sono poco più di 300 chilometri di tubature in acciaio che attraverserebbero mare, coste e monti. Per il geologo Franco Ortolani che ha preso visione del progetto sarebbe opportuno che il gasdotto sottomarino sfoci in un'area industrializzata quindi già compromessa come quella siciliana in cui hanno avuto inizio i lavori e non in un bacino di grande pregio ambientale come quello del Golfo di Policastro.